Siamo in compagnia con una, ahimè spiace dirlo, non è una grandissima parola, esodata, una signora di Pinerolo che durante la visita del ministro Elsa Fornero a Pinerolo nel centro dell'impiego ha avuto l'onore e il piacere di incontrare il ministro. Come ha fatto a incontrarla e perché l'ha incontrata? Ecco, io ero appena uscita dal patronato per avere delle risposte, delle spiegazioni sulla mia pensione. Io sono andata in mobilità nel 2009, allegata con un contratto della Confindustria col sindacato, allegata alla pensione che doveva entrare in vigore il primo aprile.